Grazie, onorevole Padone. Grazie, Presidente. Io credo fortemente che l'affermazione e la creazione di queste autorità indipendenti, forti, dotate di poteri sanzionatori, è possibilità diretta di intervento senza il trame degli Stati o Consiglio della Commissione. Però ho anche alcune perplessità che riguardano e che dobbiamo evitare, perché qualunque riferimento a forme di imposizione fiscale a carico del sistema bancario. Tutto ciò è per la ripresa, per evitare che i costi siano traslati sulle piccole e medie imprese, sui cittadini e soprattutto perché non abbiamo un sistema bancario unico. Il sistema bancario italiano, per esempio, è un sistema che ha retto dimostrandosi sano, basato sulla finanza solida, basata principalmente sul risparmio dei cittadini, non speculativa, come è accaduto in altri Paesi. Nutro ancora delle perplessità relative al divieto, seppur temporaneo, di attività finanziarie, possibilmente da condizionare al verificarsi di circostanze eccezionali. Ritengo inoltre che sia opportuno definire in modo chiaro le competenze di vigilanza diretta da parte dell'ESA sui gruppi di rivalanza sistemica e fare chiarezza sui ruoli tra vigilanza macro-prudenziale, l'SRB, e micro-prudenziale l'ESA. In ragione di quanto detto, mi auguro che il voto di oggi permetta di raggiungere un compromesso rapido, veloce e bilanciato con il Consiglio. Grazie. Passiamo adesso alla relazione McCarthy, onorevole Takula. Arvoisa rouva puhemies, äänesti lopulta tämän mietinnön puolesta ryhmäni ohjaistuksen mukaan, vaikka täytyy sanoa, että...